come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità o allora parliamo brevissimamente del pagamento dell'assegno di inclusione di aprile che è già praticamente arrivato e lo hanno ricevuto tutti coloro che hanno inviato una nuova domanda per farne richiesta poi hanno fermato il patto di attivazione digitale il pad all'interno del sisle tutti coloro che sono interessati a conoscere lo stato dei pagamenti e lo stato della domanda molto importante possono anche volendo anche volendo dopo vi dico perché anche volendo possono anche volendo collegarsi all'apposito sito internet all'interno del sito dell'inps punto it dentro sostegni sussidi e indignità assegno di inclusione poi vabbè all'interno del sito internet dell'inps è anche possibile vedere lo stato della domanda nel caso in cui ci fosse il rigetto con anche la causale perché vi ho detto anche volendo anche volendo perché se vi siete fatti la domanda in autonomia potete vederlo da soli tramite il sito internet se non vi siete fatti la domanda da soli cioè non avete compilata voi online e siete andati da un caff o da un patronato o da un professionista beh allora diciamo che in teoria le strade sono queste volete conoscere lo stato dei pagamenti chiamate il caff il patronato il professionista oppure fate prima chiamate il centralino telefonico dell'inps che loro hanno la vostra scheda anagrafica con tutto quanto e vi possono dire qualcosa in più poi tornando al nostro discorso dei pagamenti nel caso di attribuzione di una sola carta a di per nucleo familiare ricordatevi che si può prelevare del contante tramite appunto la carta con il pin che non sto a spiegarvi di tutto 4 tiene un massimo di 100 euro al mese eventualmente moltiplicati per la scala di equivalenza della di poi l'inps con il messaggio 835 del 26 di febbraio di quest'anno ha già comunicato il calendario dei pagamenti fino a luglio se non ricordo male se mi pare fino a luglio poi assi perché poi ad agosto da agosto poi vediamo poi dopo comunque ricorda tutti i beneficiari beneficiari attenzione questo comunque lo ricordo anch'io che a decorrere dalla mensilità di marzo per gli eventuali rinnovi si inizierà a prendere in considerazione il valore dell'isee riferito al 2024 questo significa in buona sostanza in altre parole che qualora la dichiarazione sostitutiva unica di su non sia stata ancora presentata e non arriva in tempo utile attenzione tempo utile per procedere all'elaborazione della mensilità allora la domanda verrà sospesa praticamente fino a quando non arriverà poi l'isee aggiornato di quest'anno cambiamo argomento parliamo di un'altra questione il 18 di marzo è partita la da c'è stata la data di avvio la data di inizio la data di partenza delle domande per il bonus psicologo 2023 ok i cittadini 2023 c'è comunque riferita a quest'anno ecco i cittadini potranno richiedere tutte le persone che sono interessate questo contributo all'inps e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni 270 giorni dall'accoglimento della domanda altrimenti decade cioè quindi alla fine come dico sempre se voi fate domanda per richiedere un bonus dei sussidi dei soldi qualcosa e poi mi raccomando ricordatevi di usarli perché sennò poi questi cosa fanno tornano indietro al governo e e poi chi li rivede più comunque tornando al nostro discorso del bonus questo contributo può avere un valore non superiore a 1500 euro per persona e ovviamente viene modulato quindi va in base all'isè del richiedente vabbè quello sapevamo ok poi cosa abbiamo il beneficio a decorrere dall'anno 2023 viene riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità una sola volta ad ovviamente a chi ne ha i requisiti al momento della presentazione della domanda attenzione requisiti nel momento della presentazione della domanda la domanda per accedere al bonus psicologo può essere presentata esclusivamente in via telematica come ho già detto dal 18 di marzo e fino al 31 di maggio quindi dal 18 di marzo al 31 di maggio voi non vi preoccupate perché tanto comunque ve lo ricorderò ancora perché anche qua come ho già detto esistono dei contributi dei sostegni dei sussidi che il governo ci mette ma vediamo di spenderceli noi e di non farli spendere a loro ok bene con questo è tutto vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di per attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento a presto ciao